Ciao a tutti, bentornati! Oggi nuovo video, video mi preparo con voi. Oggi ho un po' di tempo, quindi ho approfittato per fare un po' di chiacchiere con voi perché volete stare con voi dei prodotti che ho ricevuto, voglio parlarvi di un po' di novità, fare due chiacchiere con voi, visto che era un bel po' di tempo che non giravo un video mi preparo con voi. Come vedete anche l'angolazione è un po' cambiata, io sperimento sempre, ogni volta, angolazioni migliori per appunto migliorarmi nella speranza. Comunque, allora, partiamo! Allora, avete già visto che ho fatto un video haul dove ho acquistato dei prodotti di Puro Bio, tra cui il correttore, ed è il correttore appunto aranciato per le occhiaie. E devo dire che lo sto utilizzando e non mi sta dispiacendo affatto, anzi, mi sta piacendo un sacco, perché essendo aranciato va davvero a coprire bene le occhiaie, e quindi mi piace, mi piace molto, mi sta piacendo un sacco. Avete visto, anzi, avrete notato, il mio nuovo look, credo, spero, l'avevo anche messo su Instagram in una stories, perché ho deciso appunto di cambiare look, di cambiare colore, e... oddio, sembra un pagliaccio! E quindi appunto ho deciso di farmi bruna, non ero mai stata così bruna, lo applico con i polpastelli perché penso che sia meglio rispetto al pennello, e li ho anche tagliati, li ho tagliati, ho fatto il colore, in realtà non è un colore ma è un riflessante, non preferisco per adesso almeno, visto che non ho capelli bianchi, per adesso non faccio tinte, faccio solamente riflessanti, erano due anni che non facevo riflessanti, infatti i capelli che avevo prima di fare il riflessante erano i miei capelli naturali, anche se le punte erano molto più chiare, ma in realtà erano capelli naturali, non erano frutto di nulla, né di altre tinte, né di riflessanti vecchi, due anni fa li avevo tagliati e stratagliati, e quindi erano naturali. Io sono molto più chiara di così, infatti avevo un po' paura di non piacermi, non l'ero mai stata, ed ero un po' intimorita, anche se avevo voglia appunto di cambiare, non mi piace molto il biondo, in passato sono stata molto più bionda, ho fatto da quando ero più piccola, Mesh, tante altre milioni di cose, ma così bruna, mai. Questo qui è un color cioccolato, il mio parrucchino appunto mi ha detto che è un cioccolato caldo, anche se a me sembra un po' freddo, non proprio caldo. dalla telecamera forse sembro nera, ma non sono nera, è un castano, è un... non so se si vede, ma... sì, è un castano intenso, è un castano scuro, e devo dire che sono rimasta molto, molto, molto soddisfatta. Voi che ne pensate? a me piace molto, mi è piaciuto un sacco davvero. Ho coperto un po' il danno, utilizzo anche il correttore, sempre di puro bio, però il correttore normale, per coprire i brufoletti, eh... non significa di tutto, brufoletti, di scromie, tutto quanto, per coprire qualche brufolo di troppo. E... e ho fatto anche, quando appunto ho fatto il riflessante, ho fatto anche il trattamento LaPlex, non so se lo conoscete. È un trattamento ristrutturante, che va a dare un po' di... vitalità al capello, visto che il mio capello, dopo l'estate, era davvero... impresentabile. Io ho un problema alle punte, perché le punte sono molto, molto sfibrate, secche, disidratate, sembra praticamente paglia il mio capello, è orrendo, è davvero orrendo. Per cui, il mio parrucchiere ha detto, approfittiamo, e facciamo anche l'OlaPlex, perché appunto, davvero è un toccasana per i capelli, anche se andrebbe in teoria, mantenuto con un trattamento, continuativo, nel senso che lì, ci sono tre step, il parrucchiere praticamente, mi ha fatto lo step 1, lo step 2, e poi come mantenimento, in teoria, si dovrebbe fare lo step 3. Io penso di acquistarlo, l'ho visto anche su Amazon, se lo utilizzate voi, ditemi un po', dove conviene più acquistarlo, diciamo, ho visto da Amazon, è fattibile, anche, prendendole tutte e tre, praticamente, è una mazzata, perché tipo, mi viene 200 euro, tutte e tre le boccette, mi sembra un po' esagerato, anche perché le prime due le ho fatte, mi servirebbe generalmente il mantenimento, per appunto, mantenere appunto, per, come dire, mantenere appunto, il trattamento che ho fatto, il più, per più tempo possibile, il più a lungo possibile, quindi vedrò un po', utilizzo il fondotinta di Benecos, il fondotinta minerale, che come sapete, io, d'estate, utilizzo solo il fondotinta minerale, perché fondotinta liquidi, non li amo molto, e, questo qui, mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto un sacco, più, io, di solito, diciamo, ho sempre utilizzato, il fondotinta di, di Neve Cosmetics, sempre quelli, perché, diciamo, erano l'unici che conoscevo, ho sempre utilizzato quelli, mi ci sono trovata sempre molto, molto bene, però, se dovessi paragonare, questo fondotinta qui, di Benecos minerale, con quelli di Neve, forse io preferisco questo di Benecos, per il semplice fatto che, è leggermente più coprente, chiaramente, dai fondotinta minerali, non potete pretendere una coprenza altissima, cioè, assolutamente, anzi, la coprenza è media, va, giusto ad uniformare un po' l'incarnato, ma non va a coprire, chissà quali problemi, ecco, però, devo dire che, a me, non è dispiaciuto affatto, anzi, mi è piaciuto davvero tanto, devo dire che, a differenza anche, del fondotinta di neve, forse questo di Benecos, ha una durata anche più alta, nel senso che, non si opacizza in fretta, ma rimane, cioè, non si lucida in fretta, ma rimane, devo trovare solo apchi, ma rimane opaco, per più tempo, rispetto al, al fondo di neve, faccio le sopracciglia, con la matita di Polo Bio, che amo follemente, quindi, tra le due, io preferisco, penso sì, che se dovessi scegliere, di riacquistare un altro fondotinta, tra i due, riacquisterei quello di Benecos, tra l'altro, il prezzo è davvero bassissimo, se vi dico il prezzo, davvero, vi mettete a ridere, perché costa tipo, neanche 5 euro, costa anche meno di 5 euro, quindi, decisamente, e quindi, il rapporto qualità prezzo, vince Benecos, tra i due. e che stavo dicendo anche, nulla, che è ricominciato l'autunno, e si ricomincia con la routine, il lavoro, anche se, insomma, riuscirò, per fortuna, a girare molti più video, sarò molto più presente sul canale, perché l'estate, come sapete, per me è sempre un problema, per me è un problema tutte le volte, quando arriva l'estate, giugno, luglio, perché come sapete, io, di solito, in settimana, non ho molto tempo per registrare, cioè, non lo registro quasi mai, registro sempre, di sabato, nel weekend, domenica massimo, perché, appunto, nel weekend, lavorando, per me risulta davvero impossibile, perché, insomma, esco di casa la mattina, torno a pranzo, mi riposo un po', tempo per girare i video, non ne ho, sono stanca, la sera rientro comunque tardi, poi magari esco, quindi, insomma, non, poco tempo, ecco, poco tempo a disposizione, quindi, in settimana, e per questo, visto che l'estate, io, nel weekend, sono spesso e volentieri fuori, d'inverno, per me, è molto più semplice, riuscire a girare, quindi speriamo bene, di mantenere la parola, invece di fare come tutte le volte, che vi prometto, vi prometto, infatti, sembra che io vi dica sempre le stesse cose, ma è davvero un impegno, ci penso, però poi, insomma, gli impegni, tutto quanto, si fanno, si fanno a farsi benedire, opacizzo un po', anche se non ne ho molto bisogno, però, opacizzo un po' con la cifra di neve, anche se con questo condo tinta, non è particolarmente necessario, però, opacizzo un po', perché, almeno la zona T, necessita, poi, come trucco occhi che ho posto, ah, parlo con il, con il contouring, utilizzo la mia palette, questa qui, di labo che ho ricevuto, che ho amato, ho un po' la voce andata, che ho amato, e, tra l'altro, vedo un piccolo, ma piccolissimo buco, che non si vede, in realtà, dalla fotocamera, ma io lo vedo, ma utilizzo quella più chiara, miscelandola un po', con quella scura, perché adesso, con la scura, non va proprio bene, non è proprio, l'ideale, quindi, le utilizzo insieme, le miscelo, e, e, quindi, insomma, questo, spero di essere di parola, quest'inverno, questa stagione, davvero, perché, cioè, boh, io, io mi impegno, ragazze, davvero, però, poi, le uscite, le amiche, facciamo questo, facciamo quest'altro, quindi, questo, questo, prevalentemente, però, ripeto, con l'arrivo, dell'inverno, non c'è molto da fare, anzi, non c'è nulla da fare, di interessante, se non, nel weekend, fare un po', qualcosa di diverso, di interessante, ma, relativamente, ho ricominciato a vedere un po', di serie tv, quindi, la routine quotidiana, ha preso, rimuove il sopravvento, ahimè, e quindi, questo, devo ricominciare a vedere, ho visto Narcos, ho visto Narcos, e devo dire, che sono rimasta, molto, molto, molto stupita, quindi, sì, mi dispiace di averlo finito, Narcos, perché, a me piace un sacco, applico una base sulla palpebra, applico il, il film post di MAC, e, però l'ho terminato, ho cercato di non vederlo tutto, cioè, nel giro di una settimana, ho cercato di temporeggiare il più possibile, per quanto fosse possibile, e, devo dire che, insomma, nel giro di due settimane, l'ho terminato, e, molto, molto bello, molto, molto, molto bello, penso ci sarà anche l'altra stagione, la quarta stagione, penso, però, che si, dovrebbe essere, incentrata su, su Pegna, per chi l'ha visto, sul protagonista, diciamo, che va, però, in Messico, credo, utilizzo questa palette, faccio un trucco, molto semplice, perché, insomma, è di giorno, insomma, siamo, di giorno mi trucco abbastanza, di solito, neanche l'ombretto, però, insomma, per non fare il solito trucco, eyeliner, e nulla di più, cerchiamo di fare un trucco, un po' diverso, rispetto al solito, e, quindi, si, dovrebbe essere, incentrato su Pegna, che sarebbe il protagonista, che va, in Messico, credo, che ha a che fare, con i narcotrafficanti, messicani, credo, però, io, vi giuro, bellissimo, mi dispiace, cioè, nel senso, io ero molto affezionata, a Pablo, detto così, sembra, dovrei essere affezionata, chiaramente, ai buoni, chiaramente, io tifo Pegna, che è il buono, che è colui, che appunto, va alla caccia, di questi narcotrafficanti, però, a Pablo Escobar, ero, ero affezionata, infatti, paradossalmente, mi è anche dispiaciuto, che, che l'abbiano ucciso così, cioè, guardate che cosa creano, questi, questi, queste serie tv, dei miti assurdi, dei miti assurdi, fanno diventare, le persone peggiori del mondo, buoni, li fanno, degli idoli, questo un po', mi spaventa, sinceramente, però, sono sincera, è la verità, ed è così, provo, e così, devo essere sincera, devo trovare, anche, un pennello, diciamo che, questo specchio, non è piccolo, ma, io vorrei uno specchio grande, enorme, per vedermi, però vabbè, poi, poiché altro, ah, sì, ho un po' di, ci sono dei viaggi in vista, ci sono dei viaggi in vista, che non mi zero, però, dove andrò, dovrei fare un viaggio, cioè, devo fare, perché, ho già prenotato, un viaggio con le mie amiche, all'immacolata, non vi dico dove, vi dico che, comunque, in Europa, come sapete, chi mi segue anche su Instagram, seguitemi su Instagram, Rossellina88, non ho, ho cambiato il nome lì, ancora, perché, perché non me lo permetto, ho provato a mettere il nome e cognome, ma non me lo fa cambiare, non so perché, quindi, c'è questo viaggio in vista, che dovrebbe, insomma, che, faccio con le mie amiche, con le mie, con le mie fedelissime, in Europa, quindi, non vi dico dove, però, vi volevo chiedere, visto che, gli altri anni, mi è sempre venuto il pallino, tipo l'anno scorso, che sono stata a Praga, avrei voluto fare un video vlog, nel mio viaggio, perché, come sapete, io non amo molto i vlog, i vlog inutili, cioè, che io devo fare un vlog, dove, sono a casa, e vi dico ragazze, vado a fare, vado a fare la doccia, ci vediamo dopo, quando esco, poi di nuovo ritorno, in camera mia, a dire, a dirgli nulla, non farvi vedere nulla, questi vlog, non lo so, quei vlog così, non, 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 non li capisco, cioè, non, non li condivido molto, preferisco molto di più, magari, portarvi, a far vedere, non so, non so, dei posti nuovi, quindi, i vlog, dei viaggi, io quelli li vedo, li vedo anche dagli altri youtuber, sono molto più interessanti, perché, hanno un perché, almeno, come vedete, ho semplicemente messo un, questo ombretto, ho messo di questa palette, che sarebbe questo, qui, è un ombretto opaco, l'ho steso su tutta la palpebra, per dare un po' di, di colore, un po' alla palpebra, e poi ci applico il, ci applico l'eyeliner, che non so, se riuscirò ad applicarlo, con una mano, non lo so, non vi assicuro nulla, io ci provo, ma forse, potrino riuscirci, silenzio, un momento eyeliner, silenzio, ecco, mi ho applicato l'eyeliner, scusatemi, ma io con una mano, sono impedita, non lo so fare, quindi, perdonatemi, poi, proprio perché, insomma, una delle motivazioni, per il quale ho fatto questo video, perché volevo applicare, volevo utilizzare, i nuovi prodotti, che mi ha inviato, Idun, e le cose che avevo acquistato, di Puro B, e volevo testarle appunto, con voi, e metterle alla prova, con voi, adesso applico, questo mascara, che è il mascara air, è un mascara waterproof, e, che sto utilizzando, io non, vi ripeto, non ho mai utilizzato, mascara waterproof, questo è il primo mascara waterproof, che utilizzo, che non mi sta dispiacendo, non è, non fa delle ciglia sensazionali, questo devo dirlo, però, insomma, per tutti i giorni, va, va più che bene, perché trovo che le districhi, molto molto bene le ciglia, quindi, mi piace, e, lo utilizzo, insomma, piacevolmente, dicevo anche, a proposito dei vlog, sì, quindi, ditemi se, vi interessa, vedere un po', il vlog del mio viaggio, se potrebbe interessarvi appunto, non so, vedere, io l'anno scorso, sono stata a Praga, e non ho fatto, vlog, ho fatto solamente, tante Instagram stories, tante, tante, io e la mia amica, tantissime, e, non so, se fare un vlog, anche perché, non ho una macchina fotografica, per il vlog, solamente, la reflex, con cui registro, e poi, l'iPhone, che tra l'altro, dovevi cambiare, dovevi prendermi nuovo, quindi, vediamo, fino a dicembre, se ce l'ho, magari, con il nuovo iPhone, dovrebbero andare bene, più che bene, i video, non so, se fare, però, delle stories, puoi unirle, e fare un unico video, oppure fare dei vlog, dei veri e propri vlog, quindi, non di 15 secondi, non un video da 15 secondi, ma, dei video, un po' più, più lunghi, ecco, ci sto pensando, ci sto pensando, perché, ripeto, non sono molto favorevole ai vlog, però, i vlog dei viaggi, sì, perché, intendo, interessanti, io, insomma, ho visto anche dei vlog, di alcune persone, che, non so, hanno anche dei consigli, consigli utili, se devi andare a mangiare, posti da vedere, insomma, secondo me, sono utili, applico la, i blush, di Idun, questo qui, che è il, trambare, il numero 006, che è questo rosato, molto, molto tenue, molto discreto, che, anche questo qui, mi sta piacendo, non lo sto utilizzando, tutti i giorni, è molto discreto, ha una leggera perlescenza, ma è piacevole, perché sembra quasi, un illuminante, infatti, quando utilizzo questo blush, non utilizzo l'illuminante, perché, non ce n'è bisogno, ecco, e, infatti, come vedete, si vede un po', di, di rosa, sulle, sulle guance, infine, poi, applico, il, di Puro Bio, la nuova, il nuovo rosetto liquido, delle Lip Tint, di, di Puro Bio, che è questo color, Malva, come sapete, io adoro i Malva, e questo colore, mi piace particolarmente, è uno di quei colori, che io utilizzo più, soprattutto di giorno, ed è molto, molto bello, come vedete, è un color Malva, diciamo, freddo, e, mi piace, mi piace, quindi, questo è, era un modo per questo video, era un modo per fare due chiacchiere con voi, una sorta di aggiornamento, sui miei capelli, ditemi che cosa ne pensate, se vi piacciono, se approvate, oppure se bocciate, il, se mi approvate bruna, ma la telecamera, sembro nera, ma non sono assolutamente nera, vi giuro, ditemi che cosa ne pensate, riguardo ai vlog, se, potrebbe appunto, interessarvi, il vlog, sul mio prossimo viaggio invernale, e sono molto molto contenta, non vedo l'ora di svelarvi anche il posto, perché, secondo me, sarà, sarà figo, sarà figo, e, e nulla, era più che altro un video aggiornamento, tra virgolette, volevo anche mettere un po' alla prova dei nuovi prodotti che ho ricevuto, e nulla, io vi mando un bacio grande, per qualsiasi cosa, scrivetemi, e, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! Ciao!